Si è conclusa con una soluzione in tribunale la vicenda giudiziaria che aveva portato sul banco degli imputati Claudio Giorlandino, il re delle amniocentesi e titolare del laboratorio Ars Medica, accusato dalla procura di Roma del reato di stalking per aver compiuto una serie di atti di persecutori ai danni della sorella Maria Stella, l'imprenditrice cui sono riconducibili i laboratori di analisi Artemisia, e del cognato Carlo Di Martino